Presigioso riconoscimento dei premi internazionali Flaiano con il Pegaso d'oro a rete 8 per il docufilm Gli occhi di Liborio, tratto dal libro vincitore del Campiello 2020 di Remo Rapino, tra l'altro tra i protagonisti del filmato andato in onda sulla nostra emittente, da un'idea del direttore Carmine Perantuono con la regia di Antonio Dottavio, il docufilm sarà proiettato al termine della premiazione, l'annuncio nel corso della presentazione dei premi di narrativa italianistica della 48esima edizione del Flaiano che si è svolta a Lanciano nell'auditorium della Biper Banca main sponsor della manifestazione, la finale per l'italianistica e la narrativa il prossimo 3 luglio a Pescara, mentre il 4 sempre a Pescara in diretta su rete 8, la parata di stelle di cinema, televisione, radio, giornalismo, teatro, Carla Tiboni, presidente premi internazionali Flaiano. Questo docufilm ci ha colpiti per il modo in cui il Coccia Matte, come viene definito in questo straordinario libro di Rapino, è stata raccontata la storia di questo personaggio che ci ha commossi tutti ma che attraverso le parole lette dell'autore e degli altri attori rendono il libro ancora più, come posso dire, straordinario nella sua unicità e altrettanto sono belle quelle immagini che con leggerezza ci fanno immaginare i luoghi che sembrerebbero non esserci più. Dopo il Campiello arriva il Flaiano per questo docufilm. Io ho intenzione di raccogliere un po' le voci che leggessero paste del libro coinvolgendo attori abruzzesi, sulla scena di quello che ha fatto già la Minufax che ha fatto leggere l'incipit del libro e attori famosi. Da qui è nata l'idea, grazie a Carmine Perantuono che poi ha coinvolto il regista Antonio Dottavio, Alessandro Ranci per le riprese, di fare un percorso, di inventarci un percorso sui luoghi di Liborio, che Liborio è un personaggio immaginario però lo abbiamo reso reale inventando i luoghi in cui lui sarebbe passato durante la solita nascita, passando per la scuola, il lavoro minorile, via via il ritorno a casa, tutte le sue avventure di vita. La cosa che ha colpito di più, probabilmente stata questa, è che io mi sono reso il protagonista, ho dato la voce a questo documentario. Il film nasce in collaborazione con l'agenzia scrivo di Nicoletta e Giuseppina Fazio, realizzato con il supporto di Alessandro Lanci, in cui si devono le riprese aeree di Lanciano, il tema musicale è del compositore Davide Cavutti. Sono state inoltre presentate le terre finaliste di narrativa Under e Over 35, selezionate dalla giuria tecnica che saranno esaminate da 100 giudici popolari, premio internazionale Flaiano di letteratura 2021 a Michelle Welbeck, premio speciale Flaiano di letteratura Walter Pedullà, Claudio Piersanti, Antonio Pennacchi e al docufilm Gli occhi di Liborio di Reteotto. Inoltre sono stati illustrati i premi internazionali Flaiano di italianistica. Prosegue la collaborazione con la Biperbanca, il responsabile della direzione regionale Abruzzo e Molise, Giuseppe Marco Litta. La Biperbanca sostiene i premi internazionali Flaiano da un po' di anni a questa parte per consolidare la sua vocazione di banca vicina alla cultura e oggi ancora di più a coronamento del fatto che Biperbanca oggi rappresenta il terzo gruppo nazionale italiano nel sistema bancario. Secondo lei Flaiano cosa avrebbe pensato di Liborio? Flaiano avrebbe pensato quello che pensò delle persone che appartengono realmente all'anima del popolo e quindi gli avrebbe forse, non so, abbattuto una mano sulla spalla e gli avrebbe detto coraggio Liborio. Il peggio è passato, anzi in questo caso il meglio è passato, ma la battuta di Flaiano era questa. figura simbolica quella di Liborio, tra fantasmi, visioni, disincanto.